ehi la anche oggi siamo in valle santa felicità romano de zelino e prendiamo il nostro amicone il 180 eccolo qua e andiamo avanti fino al bivio col 970 sentierone anche oggi andiamo il 180 più avanti si va e più stretto diventa perché la gola si chiude e quindi adesso più avanti spero che troveremo il bivio delle 970 andiamo su questa gola gola eccola qua prima di arrivare al bivio abbiamo anche i punti naturali qua sentiero passa sotto ecco i punti naturali però devo dire che c'è un perché di questi punti naturali il macello anche qua sicuramente chi di competenza ripristinerà tutto prima possibile andiamo decisamente questo 180 mi ha fatto morire perché è andato su bestiaccia bestiaccia dopo tre chilometri e 30 metri troviamo il bivio e vedete qua indicato il 180 prosegue va su di qua eccolo qua noi andiamo dritti continuiamo la nostra stradina qua e subito subito eccolo qua 970 quindi andiamo avanti e scopriamo il 970 se non ce la fate a venire su con le gambe trovate sempre dei bastoni naturali chi vi dà una mano dai venite su un altro bivio arrivati al bivio allora indicazioni la nostra destinazione è croce del termine questa volta evitiamo evitiamo campo solagna e sentiero adesso va giù va giù di qua eccolo qua andiamo piccolo incidente di percorso qua è venuto giù alla grande quindi con calma si passa sotto che atleti vai come spesso capita passa un po la strada in mezzo al sentiero no niente paura eccolo qua li comincia subito e qui vedete eccolo qua indicato molto bene e andiamo su di qua dopo dopo l'indicazione ne troviamo un'altra piccolina fate attenzione perché eccola qua eccola qua 970 va giù di qua non seguite la strada principale andate giù di qua vai 970 nella parte centrale del bosco è facile perdersi mi sono perso anch'io state attenti ai segni sugli alberi determinati per trovare il sentiero e proseguire per la strada giusta adesso ho un'indicazione scritta così cibara e quindi andiamo su per cibara comunque sempre indicato sui tronchi state attenti e dai usciamo dal bosco un'altra volta e troviamo questa chiesa un po futuristica secondo me per essere montagna però è un punto di riferimento quindi se trovate questa chiesa siamo giusti su passata la chiesetta state attenti perché si va sulla strada si fa un centinaio di metri e poi si gira eccolo qua e riferimento questa casina qua il 970 è indicato sul muro qua quindi si va su di qua prestate attenzione allora bellissimo attraverseremo vari pascoli e guardate indicazioni sempre precise 970 mi raccomando mi raccomando quando attraversiamo i pascoli si apre le porte e si chiudono perché sono gli animali possono scappare ok oppa chiudiamo bene andiamo su arrivati a croce del termine qui il 970 finisce e come vedete intersechiamo il 920 che va su di là ti rimanda di là quindi mi siedo un po per terra eccoci qua allora partendo da valle santa felicità 180 abbiamo preso dopo 3 km e 30 il 9 e 70 siamo arrivati a croce del termine abbiamo fatto esattamente 11 chilometri e 40 metri con un dislivello positivo di mille e 300 metri bellissimo la tira anche qua però stra panoramico soprattutto la parte finale che siamo in mezzo ai pascoli quindi ragazzi venite e anche il 970 l'abbiamo fatto sempre grazie 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 mettete mi piace condividete seguitemi su instagram continueremo i nostri sentieri sempre più belli se volete scrivermi in privato sono stra disponibile ci vediamo alla prossima e come sempre è la che bello stare buttato sull'erba da solo e voi che dite mai da solo qua ma ma